Salve a tutti da Leggio Patria Nostra Italy, il primo canale sul tutorial della legione straniera francese in lingua italiano. Oggi volevo parlarvi di una mia esperienza che ho fatto, quindi la mia prima missione e unica che ho fatto alla legione straniera, quindi era un'operazione Shamal, quindi negli Emirati Arabi. Cosa possiamo dire? Quindi vi racconto dall'inizio la mia esperienza negli Emirati Arabi, come è stata e come è la missione che ho fatto là, che cosa serviva questa missione, il perché la Francia è là, perché gli Stati Uniti sono là, perché altri paesi, anche qualche giapponese è là. Allora, lì siamo andati, quindi io sono partito nel 2015, per 5 mesi e mezzo sono restato, quindi vi posso assicurare che è la più bella esperienza, una delle più belle esperienze della mia vita, quindi un paese magnifico, un paese che veramente un giorno quando avrò la fortuna di andarci a vivere, lo farei volentieri, perché è un paese dove ci sono delle leggi, dove non c'è criminalità, quindi la criminalità è a 0,1%, vi immaginate? 0,1% che in confronto ai paesi europei o altri paesi, la criminalità è elevata. Quindi io sono partito dall'aeroporto militare di Parigi, quindi sono arrivato sei ore di viaggio, quindi maggior parte si vedeva solo il deserto, ma comunque era una vista magnifica, quindi vedere il deserto era una bella vista. Cosa possiamo raccontare? Di quello che c'è negli Emirati Arabi, quindi io ero installato a Abu Dhabi una caserma militare dal deserto, quindi vi assicuro dal deserto, ma non ci siamo solo noi come reggimento, non c'era solo la legione straniera, oltre all'esercito francese, in quella caserma, quindi uno spazio dove ci sono tutte le caserme, quindi hanno utilizzato un mio business molto intelligente, quindi di costruire delle caserme nel deserto e affittarle ai paesi che vogliono addestrarsi. Quindi ci sono tutti i paesi che vanno lì per addestrarsi nel deserto, quindi immaginatevi il business che hanno gli Emirati. Un'altra cosa che ci sono anche, quindi non dico neanche il nome delle imprese, ci sono delle aziende, quindi delle PMC, quindi delle società private militari, quindi dei contractors, ci sono lì perché vanno a combattere in Yemen, oltre che ci sono anche l'esercito degli Emirati. Il bello lì si mangia bene, si mangia troppo, quindi il miglior cibo che io abbia mai mangiato, quindi il miglior pranzo e cena che ho, e colazione, che io abbia mai mangiato in tutta la mia carriera militare, quindi ne ero fiero e contento e sazio, come si può dire. Poi in questa caserma c'era nel deserto, quindi era uno spazio di deserto, c'era un supermercato nel deserto magnifico, che per i militari, quindi potevi comprare della roba militare là, delle visori notturni, eccetera, tutto il materiale militare era tutto lì ed era un supermercato magnifico dove c'erano ristoranti, tutto nel deserto. Ma per andarci bisogna avere un'autorizzazione, quindi autorizzazione sempre tra il capitano o il caposezione che ti ti dà un'utilizzazione, ti firmava la carta per uscire e andavi lì, portavi altre 4-5 persone, andavi lì, compravi quello che volevi comprare con altre 5 o 6 persone, quindi vi davano il tempo di un'ora di restare e poi si cambiava, andavano gli altri. Il mio primo weekend negli Emirati, perché andavamo, noi avevamo stazionati a Abu Dhabi, quindi Abu Dhabi è un'altra città più finanziaria che Dubai, è una città turistica, quindi ho visitato sia Abu Dhabi che Dubai. A Abu Dhabi sono andato perché noi eravamo fuori dalla città, quindi deserto, per andare ci mettevamo un'ora e mezza per arrivare, un'ora scusate possiamo dire, per arrivare negli Emirati. La prima volta che sono arrivato, dopo una settimana che non avevamo avuto un weekend, quasi due settimane scusate, perché lì è diverso, il weekend è il giovedì sera, il venerdì non si lavora, il sabato non si lavora e si riprende la domenica. e gli orari là sono differenti perché là il caldo è talmente forte, quindi gli orari erano dalle 7 fino alle 15, quindi alle 15 fine di lavoro, quindi alle 15 nessuno doveva più lavorare. Poi dipende dal sole, delle volte cambiavano, quindi se i gradi aumentavano, quindi veniva zona nera, la zona nera nessuno doveva uscire, vuol dire che il sole era sui 52 gradi, quindi dai 52 gradi non potevi più uscire, quindi ero lì in estate, quindi è capitato due volte che è stata la zona nera e in zona nera due volte abbiamo fatto delle attività di istruzioni sulle armi o istruzioni varie nella caserma, quindi prima vi racconto quello che ho fatto a livello militare, poi a livello di divertimento, diciamo a livello libero. A livello militare ho fatto una formazione come guidare nel deserto e tutto quello che bisogna fare attenzione che cosa c'è nel deserto, quindi evitate, quindi ci hanno spiegato, evitate di mettere le scarpe nella parterra, perché nel deserto ci possono entrare degli scorpioni o altri settivari che sono pericolosi, quindi le scarpe vanno appese, non vanno messe parterra, quindi o le mettete vicino a voi con l'hamaca o nell'auto, quindi che dormite là. La guida nel deserto, come posso anche dirlo, quindi vi do anche dei consigli, chi un giorno vuole fare un safari nel deserto, scusate non safari, chi vuole guidare nel deserto, la tecnica per evitare di sprofondare bisogna mettere le ruote a pressione, tutte le quattro volte ha la pressione di 2, quindi una pressione di 2 barre e bisogna prendere tutte le parti dove c'è la vegetazione, quindi una piccola vegetazione, vedete delle piccole armi, piccole armi, piccole piante, prendete quella parte con la macchina, perché là il suolo è più duro. Poi l'attività che ho fatto, abbiamo fatto delle esercitazioni, esercitazioni di notte, come mostrerò alcune immagini che metterò alla fine del video, quindi quando finisce il video continuate a guardare perché metterò delle immagini della mia missione a Dubai, Dubai, scusate Abu Dhabi negli Emirati, abbiamo fatto delle esercitazioni, abbiamo fatto dei tiri, quindi abbiamo sparato, abbiamo sparato con tutte le armi, quindi la Browning Minty 50, la Mag 58, la Minimi, FAMAS, esercitazioni varie con gli Emirati, con l'esercito degli Emirati e poi abbiamo fatto delle uscite di terreno e la mattina facevamo del footing, quindi della corsa nel deserto, quindi è un'esperienza che ve lo dico, è magnifica, se avete un giorno di andare in quel paese andateci, non ascoltate né i giornalisti né la gente, quel paese è magnifico, è magnifico e ve lo ripeto, magnifico, ho viaggiato dappertutto, non ho mai visto un paese più bello di questo, quindi ve lo consiglio, quindi facevamo delle volte 10 km di footing, 15 km di footing, sempre nel deserto, quindi delle volte abbiamo fatto anche di più, abbiamo a 20 km, il deserto, il problema è che si sprofonda, quindi bisogna accelerare un po', quindi i muscoli lavorano troppo e bisogna portare solo una bottiglia, piccola bottiglia d'acqua, perché una grande bottiglia d'acqua o una borraccia con voi, perché se prendete una grande, una bottiglia grande c'è il peso, quindi bisogna prendere una borraccia, attaccarla su di voi e là c'è il footing. Noi avevamo una mimetica desertica, come ho mostrato in altri video dove parlo, quindi una camicia desertica per l'estate, dei pantaloncini avevamo un'altra camicia, una maglietta corta, quindi per il deserto e un tipo di cappello si chiama chapeau brusso in francese, non so come si dice in italiano, quello che usano delle volte i nevisial nella giungla, quindi quel tipo di cappello. E poi le scarpe desertiche, c'erano dei tipi di scarpe desertiche, le scarpe desertiche dell'esercito francese, fanno schifo, scusate, ma quelle che avevano gli emirati erano eccezionali, quindi erano belle e confortabili e mi sono preso due paia di quelle che ci avevano dato gli emirati e a me me l'avevano regalato uno in più. Gli emirati, quindi questa è la missione che abbiamo fatto, il perché la Francia è là e tutti gli altri paesi, tutti gli altri paesi sono lì perché per business, per il petrolio. Bisogna dire che gli emirati a confronto di altri paesi arabi come il maghreb e altri paesi musulmani, gli emirati sono eccezionali per la loro gestione del business, come l'Arabia Saudita, Qatar e altri paesi. Che gli si vengono criticati o no, hanno una capacità forte del business, sono tra i primi al mondo, quindi ve lo dico tra i primi al mondo a gestire un business molto forte. Quindi per questo la Francia è lì per proteggere questo business e per, e anche per una seconda missione, cioè bombardare in Iraq, quindi hanno una base, una base lì aeronautica di cui inviavano gli aerei per bombardare lo Stato Islamico, quindi come si chiama l'ISIS che c'era prima, quindi la missione era quella di bombardare, quindi l'operazione Shamal che adesso penso che sia finita, quindi prima c'era la tredicesima DBLE, l'Abu Dhabi era in missione 2015, poi la tredicesima è partita, quindi non c'è solo l'esercito francese e più perché la Francia voleva vendere delle armi agli emirati, quindi hanno venduto solo il VBC, quindi della Nexter, quindi hanno venduto il VBC, quindi Veicolo Blindato Combattimento Infanteria, quindi in francese Veicol Blindé Combatt Infanterie, quindi Nexter che è una società francese, quindi sono riusciti a venderlo agli emirati che il Cesar che è un'artiglieria non l'hanno venduto. La maggior parte hanno i carri armati francesi Leclerc, quindi per dire i generali si sono messi, si sono inchinati ai generali degli emirati per comprargli quella merda di carro armato che all'inizio volevano comprare il carro armato tedesco ma i francesi si sono inchinati a 90 gradi per comprare, perché gli emirati comprano queste armi, più gli aerei anche i raffal, perché gli emirati all'inizio volevano comprare gli F22 Raptor e gli F35 o volevano prendere il Sukhoi 57 ma alla fine i francesi hanno sempre cercato di andare a fare di tutto che gli emirati compra, quindi hanno, come posso dire, leccato per comprare le armi, quindi è anche per in cambio, visto che gli emirati comprano le armi dagli francesi, i francesi e gli americani in cambio proteggono gli emirati da un eventuale attacco dell'Iran, quindi tutto questo è per questo che sono là. Adesso abbiamo parlato un po' delle missioni, perché adesso vi parlo il modo di vivere, sarò criticato, non è un problema, io preferisco essere realista, il modo di vivere che hanno loro è un modo di vivere ottimo per me, la gestione dell'immigrazione che hanno è un modo ottimo per me, quindi sto tutto a spiegare e sto a spiegare il divertimento eccetera eccetera. L'immigrazione come gestita? Ci sono delle società, per esempio in India, in Bangladesh, in tutto in questi paesi, nelle Filippine, che reclutano i lavoratori per andare negli emirati arabi. Non sono pagati tanto, alcuni sì, alcuni no, ma quando arrivi negli emirati ti prendono il passaporto. Il perché? Molti dicono che non è giusto il diritto dell'uomo, è giusto che prendano il passaporto, perché se tu fai un contratto con una società, fai un contratto di due anni, tu devi terminare il tuo lavoro, quindi hai deciso, hai fatto una scelta, non è che la scelta dopo non ti va e te ne vai via e lasci dalla merda l'azienda, non è giusto. Quindi ti fanno un contratto a tempo determinato di due anni, di cui devi rispettare. Se vuoi le vacanze puoi chiedere, ti danno il passaporto e puoi partire in vacanza. E il passaporto anche per evitare l'immigrazione illegale che va verso l'Europa, perché alcuni cercano di prendere come luogo per andare negli emirati e poi andare verso l'Europa, che là, come sapete, l'Europa dà tutto a tutti. Quindi però chiudiamo il discorso sull'Europa, sull'immigrazione perché se no possono bloccarmi il canale, quindi io evito, solo vi spiego come gli emirati arabi. Quindi l'immigrazione gestita che ti prendono il passaporto, loro restano due anni. In due anni o continuano il lavoro che hanno fatto, o si cercano la maggior parte, quindi di preferenza preferiscono fare, finire il lavoro di muratore o manovale e partire come fare taxista, perché il taxista è più pagato che il manovale. Quindi il taxista è un ottimo lavoro negli emirati perché comunque si svolge tutto sul turismo. Quindi l'immigrazione funziona così, diritti o non diritti dell'uomo non è un problema, loro non hanno preso la gente, li hanno presi dal loro paese e li fatti venire negli emirati. La scelta è di loro, loro hanno scelto, la maggior parte gli è stata rifiutata il visto per l'Europa, quindi ha scelto gli emirati, è a posto, quindi che diritti o non diritti è la loro scelta, come voi lavorate poi qualcuno, è la vostra scelta, quindi sta a voi, le vostre scelte, avete le vostre responsabilità. Quindi gli emirati, come vi ho detto, è la sicurezza, c'è una sicurezza incredibile. Se volete bere perché siete alcoli, c'è quello che volete, ci sono degli hotel, ci sono delle discoteche. All'interno potete bere, ma all'esteriore è vietato, in strada è vietato bere, in strada è vietato dormire. Per questo non vogliono, loro vogliono stare tranquilli, sono 10% della popolazione di cui il 90% sono tutti stranieri negli emirati, quindi di questi 90% il 40% sono filippini e il restante di altre nazionalità. Il bello di Dubai è che è tutto pulito, quindi non trovi niente di sporco, quindi la pulizia è importante. Il bello di Dubai non c'è quello che ti rompe le scatole, il bello di Dubai non c'è quello che ti aggredisce. A Dubai ho gli emirati arabi, quindi ho fatto Abu Dhabi e Dubai. Gli emirati arabi, se dovete andare un giorno evitate di guardare le loro donne. Le loro donne dalla loro cultura, perché c'è differenza tra cultura e religione, le loro donne devono sposarsi solo con loro. Quindi loro sono un paese, sono molto molto nazionalisti, quindi è per questo che io ci ho parlato, quindi con uno di loro. Loro sono molto nazionalisti, quindi una frase che mi ha colpito molto, quindi uno mi ha detto, due frasi che mi ha colpito di questo qui, di Unemiro, mi ha detto sapete gli stranieri lavorano per noi, non siamo noi che lavoriamo per gli stranieri. E questo mi ha colpito quello che ha detto, quindi poi se era fatto qualcosa in Europa, una cosa del genere, ti avrebbero dato del razzista, ma per loro è una cosa normale, perché comunque se tu inviti qualcuno a casa tua, deve fare le faccende di casa, o inviti qualcuno nella tua barca, deve fare le faccende di pulizia di barca, perché comunque vive sotto le tue dipendenze. E per Dubai è questo. La seconda cosa che mi ha detto, mi ha detto vuoi sapere se l'immigrazione ha funzionato o no, sia da te che da me? E mi ha detto spiegami, mi ha detto affacciati alla finestra, mi sono affacciato alla finestra e ho visto dei grandi palazzi, mi ha detto cosa vedi qua? Io ho detto dei grandi palazzi, e lui mi ha detto quando tu ti affacci alla finestra di casa tua, vedi questi palazzi? Io ho detto no, allora vuol dire che l'immigrazione non ha funzionato da te. Quindi adesso chiudiamo su questa cosa perché è un po' molto delicata, poi mi arrivano degli insulti, evito, io sono più realista che altre cose. A Dubai c'è una legge, quella che è la sharia, quindi la legge musulmana. Quindi se uccidi, ti uccidono, quindi c'è una condanna a morte. Se rubi, la condanna a morte è alta, quindi non è una condanna a morte, la condanna è alta, prigione a vita, è finita lì per te, quindi non esci, non è come rubare delle caramelle, ti prendi un giorno di prigione o non gliene frega niente come in Europa là, tu rubi, sei nella merda, quindi la gente evita. Io un giorno ho lasciato il mio telefonino quando ero in discoteca, due giorni dopo, due giorni dopo, perché ho dovuto dire di urgenza che dovevo partire, due giorni dopo il telefono era là, nello stesso luogo dove era. Nessuno sapeva, io ho visto solo nel bancone, nel bancone hanno pulito, cioè vi immaginate, hanno pulito il bancone, hanno tolto tutto il bicchieri che c'erano nel bancone e non hanno toccato il telefono. Vi immaginate a che punto la gente ha paura di rubare, cioè vi lasciate il telefono lì, hanno paura di rubare. Quindi a Dubai non fate mai cazzate o gli Emirati, in generale Abu Dhabi, perché ogni 100 metri c'è una telecamera, siete controllati dappertutto. Questo non è perché la privacy, questo è sicurezza, non è che siete controllati in bagno, non vi preoccupate quando andate in bagno non siete controllati, ma dappertutto la sicurezza a Dubai è una cosa primaria. Come vedete ci sono tutti i VIP che vanno lì, non perché è il luogo dove vanno tutti i VIP, no, tutti i VIP vanno lì per la sicurezza. Quindi le leggi, poi un'altra cosa, evitate di fare incidenti con loro, come vi ho detto sono molto nazionalisti, se fate gli incidenti con loro sono loro che hanno ragione, quindi evitate di fare i pazzi in strada se avete una macchina, quindi se avete una macchina fate un incidente con loro, loro hanno ragione. Se siete in fila alla posta e loro hanno la carta che sono 100% Emirati, loro passano prima di tutto. Molti mi dicono che è un'ingiustizia, io penso che sia giusto, e sia giusto che è il loro paese, e sia giusto che danno la precedenza a quel 10% delle popolazioni, è giusto che il governo si preoccupa del suo popolo. Immaginatevi, sono morti 22 soldati di loro in Yemen, c'è stato un lutto senza musica, musica triste, mettevano alla radio, un lutto per una settimana. Per dire l'importanza che ha il popolo Emirato là, è una cosa incredibile che mi è piaciuto e delle volte mi emozionava di come un popolo può essere così nazionalista, senza disturbare altre persone. Poi maggior parte dice perché le donne si mettono il velo, il burka, questo ve lo spiego subito. In verità non sono obbligate a mettersi il burka, ma siccome l'uomo è debole ai soldi, il governo ha deciso di fare una legge di mettere i vestiti tradizionali degli Emirati. Quindi ognuno che mette, ogni Emirato che mette il vestito tradizionale viene pagato 3000 euro al mese dal governo. Quindi se l'uomo si mette quella tunica bianca e il vestito degli Emirati, il governo lo paga 3000 euro al mese. La donna, il governo lo paga 3000, il governo la paga 3000 euro al mese per mettersi il burka. Quindi è tutto assai normale se le vedete, le mettono, non perché sono obbligate, perché i soldi ti fanno fare di tutto. Quelle che non mettono il burka ci sono, le ho viste, le ho viste anche in discoteca, delle volte vanno di nascosto, cercano di mettere il sistema, quindi di giorno si mettono il burka, di notte si levano il burka o il velo come si chiama. Quindi la cultura non è la religione, perché andate in Turchia è diverso come andate in altri paesi musulmani, è molto diverso. Quella è la cultura che si mettono e devono e vogliono rispettare e vogliono tenerla, non vogliono che gli stranieri un giorno gli tolgono la loro cultura. Quindi il problema di Dubai, per me io non sono stato nessun problema, quindi vi dico come adesso passiamo alla fase divertimento. Il divertimento a Dubai è strappieno, quindi potete andare nella piscina, quindi un parco di un parco acquatico, il parco acquatico più grande del mondo, quindi più grande del mondo. Sono andato lì, sono andato al Ferrari World, quindi che ho visto la montagna russa più veloce del mondo, quindi da 0 a 10 secondi arrivava a 300 km orari, quindi quando l'ho fatta ci ci hanno messo, ci hanno fatto togliere tutti gli oggetti che avevamo in tasca, immaginatevi, ci hanno fatto mettere gli occhiali di protezione, quindi immaginatevi a che punto era veloce questa montagna russa e Ferrari World è magnifico. Poi ci sono i supermercati enormi, poi c'era un ristorante panoramico che girava intorno, quindi faceva il giro che c'è come c'è a Los Angeles, ho visto anche uno a Montpellier in Francia, ma in Italia non so dove sia, non l'ho mai visto, quindi è un ristorante panoramico che gira. L'altra cosa quindi che vi potete invertire, per chi non ha ragazze o uno che come me avevo fatto 4 settimane nel deserto con esercitazioni a destra e sinistra, ci sono degli hotel dove ci sono delle prostitute, quindi trovate delle prostitute, le prostitute sono a loro conto, guadagnano l'oro, ma devono pagare l'affitto del locale, il locale dove sono lì perché i clienti arrivano, quindi la maggior parte delle prostitute sono di origine, ci sono trovate filippine, cinesi, di tutto, quindi russe, io per dirvi me ne sono stato con 5, quindi un'Etiopia, una, scusate, due delle Etiopia bellissime, magnifiche, una russa, una del Dagestan e una dell'Iran, la più bella è quella dell'Iran, che mi sono scambiato il numero ma non ci vado più, quindi non si può fare più niente, e quindi questi sono i divertimenti che potreste fare, Dubai, o Dubai Abu Dhabi, gli Emirati Arabi, è un paese magnifico, non ascoltate nessuno, non ascoltate quello che vi dicono, la maggior parte, perché la gente non va lì, perché dal Maghreb non vanno, ci sono dei marocchini, quindi marocchini, ma la maggior parte non va lì perché sono regole disciplinari, regole veramente severe, non c'è la libertà di fare della criminalità, come in Europa, la agiscono, se vedono qualcosa che non va bene, agiscono subito e non ci sono né ma né se, ci sono le prove, ha fatto quello, la polizia viene e arresta subito, è processo subito e vogliono, loro vogliono ottenere la sicurezza, per questo ripeto i VIP e le persone famose vanno lì per la sicurezza, come c'è l'Arabia Saudita, eccetera eccetera, quindi spero che questa esperienza che vi ho raccontato vi è piaciuta, può darsi che ha offeso qualcuno, io non penso di no, funziona così, il sistema è degli immirati, questo sistema è così, quindi non si può fare niente, o gli piace, o finiscono il loro contratto, la gente può andare in Europa e se ne va via, di quelli che dico, per me se potrei quindi in cinque mesi e mezzo ho visto quello che potevo vedere, mi è piaciuto, se un giorno ci riuscirei ad andare a viverci, ci andrei e ci andrei per la sicurezza, ci andrei per il bel paese, ci andrei per le regole severe, quindi per questo ci andrei e ci vivrei, quindi vi ringrazio, il video finisce così, vi ringrazio tutti per avermi ascoltato, per aver guardato questo video, vi ricordo che potete, se avete volete dei consigli su che cos'è la legione, cosa c'è dentro la legione, come funzionano i test, non avete che abbonarvi al mio canale, così aiutiamo questo canale ad avanzare in modo ottimo, ecco questo vi ringrazio dal legge o patria nostra Italy, alla prossima! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!